Oh, oggi è arrivato anche lui a Napoli. Ma lo stiamo per dire allora? Eh? Lo stiamo per dire? Sì. Ma tu non lo sai? Di. Allora. Oggi, qui a studio Martina... No, 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 stai sbagliando. Allora, avete sentito dire che oggi arriva in Italia il PIBE? Il PIBE. Tra l'altro forse stasera andrà anche a vedere Udinese e Napoli. Pare, non lo so cosa ci dicono. Avete sentito che doveva partecipare ad una trasmissione locale? Io l'ho sentito. Adesso hai capito perché stanno le guardie del corpo là fuori? Sì. Perché tra poco arriva e spedito pistone. Un grande, un grande e spedito pistone. Quindi, come sempre, a studio Martina, no. A studio Martina il PIBE non c'è. Però è una certezza. Non c'è neanche Alessandro Siani. Siani, Siani. Non c'è. Non c'è, non c'è. Non c'è neanche Vincenzo Salemme. Però oggi abbiamo una grandissima ospitezza. Assolutamente. Perdonatemi il neologismo. Sì, 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 mi piace ospitezza. Buongiorno al maestro Ciro Alma. Come sta, maestro? Buongiorno, buongiorno. Ma ci sono io? Ma chi se ne frega, maestro? E sarà per quello che ammarato non è venuto domenica. Capito? Qual è il problema? No. Vabbè, vabbè. Facciamo cantare invece Federica Riccio e la sua rassegna stampa. E la sua cultura, la sua preparazione. Che meglio. Basta. Buongiorno Federica. Buongiorno. Apriamo la rassegna stampa. Buongiorno. Grazie a tutti.